Anche medici di base potranno vaccinare contro il Covid. È stato sottoscritto ieri sera l'accordo tra la Regione e i sindacati dei medici di Medicina Generale. Questi parteciperanno alla campagna su base volontaria e saranno comunque coordinati dalle ASL, le quali dovranno informare sui tempi e le categorie da sottoporre a vaccinazione. Un accordo importante perché serve per accelerare la campagna vaccinale della nostra Regione. Allora avranno il compito di vaccinare tutti i loro assistiti. I medici di assistenza primaria potranno vaccinare direttamente nei propri studi o anche a domicilio, mentre quelli di continuità assistenziale, di emergenza sanitaria o specializzandi potranno comunque procedere all'inoculazione delle dosi, ma solo nei punti territoriali allestiti dalle ASL. I medici poi dovranno assistere coloro che hanno ricevuto il vaccino, così da segnalare tempestivamente eventuali reazioni avverse. Bisogna ora capire quanti medici daranno la loro disponibilità, c'è però da aspettarsi che le schiere di coloro pronti a immunizzare la popolazione siano presto rinfoltite. Possiamo vaccinare tutti entro l'estate, ha dichiarato Fiducio Salaveri. Trovati i vaccinatori, bisogna però augurarsi che arrivino anche vaccini. Noi abbiamo previsto che siamo in grado di chiudere una campagna vaccinale anche prima dell'estate, anche entro luglio, però bisogna vedere quanti dosi arriveranno. Siamo in grado di, così come abbiamo dimostrato precedentemente, siamo in grado di poter inoculare diverse dose, migliaia e migliaia di dose, che adesso anche con l'aiuto della protezione civile andremo ad aumentare.